E' per dimostrare appunto che tramite gli esempi dell'Unità di Torino, di Bari, di Pisa e di Milano che cambiare le cose è possibile e boicottare questi accordi è possibile. Considero grave e preoccupante che il Senato accademico dell'Università di Torino scelga di non partecipare al bando per la cooperazione scientifica con Israele e lo faccia dopo un'interruzione con occupazione da parte dei collettivi. Penso che se le istituzioni si piegano a questi metodi oggettivamente rischiamo di avere molti problemi. Oltre a 4.000 nomi di ricercatori, professori, dottorandi che chiedono l'interruzione dei rapporti di ricerca e di collaborazione con le università israeliane. Mi vergogno a nome di quei 4.000 professori e accademici che hanno firmato un documento in cui si invitano le università italiane a non avere più nessun tipo di rapporto, a tagliare collaborazione, amicizie e partnership con le università di Israele. Criticare alcuni atti dell'attuale governo israeliano non è un'azione di antisemitismo e non è neanche mancanza di rispetto verso la comunità ebraica. Bisogna distinguere i popoli dalle critiche di certi atti che peraltro portano avanti anche parte della comunità ebraica stessa. Una cosa è parlare di manifestanti che possono essere gruppi di collettivi, associazioni più o meno riconosciute. Una cosa è parlare di studenti. Gli studenti molto spesso sono quella maggioranza silenziosa che subisce il disagio della contestazione ma non vi partecipa. Ci stiamo mobilitando e riflettendo per dare tutti insieme, docenti e studenti, una possibilità di lettura critica e anche alternativa all'informazione che in Italia, ma non solo in Italia, è spesso molto riduttiva e reticente. Si è chiusa la possibilità per le università di presentare progetti di ricerca in collaborazione con Israele. Oltre a Torino, anche Bari e la scuola normale hanno detto di no. Stop dunque al bando Maecci. Buonasera e bentrovati a tutti voi a questa nuova puntata del TG+. Buonasera al mio compagno di viaggio Savino Balzano. Buonasera Aurora e un caro saluto a tutti voi. Vado a presentare i nostri ospiti, un parterre numeroso, quello di questa sera, il professor Paolo Quintili dell'Università Tor Vergata. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera. Il collaboratore, collega del Fatto Quotidiano, Leonardo Bison. Benvenuto. Buonasera. In collegamento da Bologna abbiamo Giuseppe Curcio dell'Unione Sindacale di Base e Luigi Pandolfi di Cambiare Rotta. Grazie per averci stato il nostro invito. Buonasera. Adesso, eccoci. Io parto subito da voi perché in questo momento a Bologna, a Via del Pratello se non vado errata, è in corso un nuovo presidio. Perché, come dicevo, alle 16 di questo pomeriggio è scaduto. Non c'è più possibilità effettivamente di presentare questi progetti di ricerca. Sappiamo le università che hanno detto di no. L'Università di Bologna cosa farà? Allora, niente, noi abbiamo fatto una verifica con l'Ateneo e alle ore 18, quindi ben due ore dopo la scadenza del bando, non risulta nessuna manifestazione di interesse da parte dei docenti per il bando Maeci all'Università di Bologna. Per cui, ecco, per noi questa è sicuramente una vittoria. Speriamo che sia altrettanto anche in altri Ateneo. In realtà non è un presidio, ma è un'assemblea. La mostro alle mie spalle, qui al Pratello, al Centro Sociale della Pace. Si tratta di un'assemblea per costruire il 25 aprile, quindi la resistenza alla guerra. Partigiani di pace. Ecco, Luigi Pandolfi, cambiare rotta in prima linea per questa battaglia, però come abbiamo sentito da alcune dichiarazioni nel nostro blog per la politica, per la Ministra Bernini, siete una minoranza? Ma a noi sembra che l'unica minoranza sia quella che in questo momento appunto sta portando avanti gli accordi con Israele all'interno delle nostre università. Il problema è che questa minoranza si trova all'interno delle governance dei nostri Atenei, che appunto sempre di più si vanno a legare con Israele e con tutto il comparto bellico. Gli studenti in questi mesi hanno ampiamente dimostrato come la pensano e gli studenti non vogliono assolutamente più essere complici di un genocidio che sta accadendo in questo momento in Palestina e non vogliono più essere complici di tutte le guerre che il nostro governo sta portando avanti. Adesso vado al professor Quintili, che ieri ha partecipato alla mobilitazione che è stata organizzata a livello nazionale, però lei in particolare con gli studenti di Cambiare Rotta di Tor Vergata. Abbiamo sentito sempre nel blog Salvini dire che è vergognoso, si vergogna a nome di quelle 4.000 personalità che hanno avanzato questa richiesta. La Meloni parla di un precedente pericoloso, quello di Torino. Cosa risponde? Beh, guardi, io ieri intervenendo alla manifestazione organizzata agli studenti che mi avevano invitato, sono andato con grande piacere, ho ricordato l'articolo 11 della nostra Costituzione, che recita che l'Italia ripuglia la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali. Ora, è circa 30 anni, 25 anni a questa parte che quest'articolo 11 della Costituzione viene più volte disatteso. E il bando maesci, attenzione bisogna fare una precisazione, non mette fuori Israele da tutte le collaborazioni con l'università. Io per esempio sono uno storico della filosofia e collaboro attivamente con colleghi di Israele e mi sognerei macolutamente di togliere, tagliare i ponti come pretende che il ministro noi facciamo, opponendoci a questo bando. Si tratta di un bando mirato a, come ben noto, il double use, cioè il doppio uso di tecnologie di ricerca ingegneristiche che possono essere impiegate anche e soprattutto nell'ambito militare. Quindi è un boicottaggio assai, diciamo così, circoscritto a questo aspetto. Non certo sulle ricerche, che ne so, di storia dell'ebraismo o di questioni relative alla storia comune che ci lega a Israele e alla cultura ebraica, che è una grande cultura con la quale noi siamo tutti in dialogo e non ci sogneremmo minimamente di tagliare i ponti in quel senso. Quindi c'è un po' una mistificazione, una distorsione delle cose nelle parole del ministro perché lui presenta questa protesta come una protesta rivolta contro Israele nel suo insieme quando qui si tratta di opporsi a delle misure di governo in questo momento e soprattutto ha, ripeto, questo doppio uso che si può fare di certe tecnologie ingegneristiche con le quali si alimenta la guerra. Poi mi permetta di dire anche che questa è una goccia nell'oceano perché l'Italia è il terzo produttore di armi che scambia armi in Europa con Israele dopo l'Inghilterra e la Francia. Quindi questo è veramente un minuscolo granello di sabbia nel mare di altre collaborazioni che purtroppo invece sono in essere, in atto in altri settori. Quindi l'università, per concludere, si dovrebbe tenere fuori da ricerche che hanno implicazioni dirette o indirette anche militari. So che è difficile, certo, perché molti contratti e bandi hanno anche ricadute non militari, però in questo caso, per questo bando, le ricadute ci sono e come perché sono impegnate delle tecnologie ingegneristiche molto sofisticate per il riconoscimento degli orecci e per cui le ricadute militari sono evidenti. Certo. Allora, visto che l'abbiamo giustamente tirato in ballo, il professore è entrato nei dettagli del bando Omaeci, adesso vi faccio sentire il servizio confezionato per questa sera da Lorenzo Capezzuoli-Ranchi. E poi, Leonardo Bison, vengo da te, perché al di là di tutto possiamo dire, penso senza ombra di dubbio, che stiamo vedendo una nuova mobilitazione politica da parte degli studenti, una mobilitazione che forse non si vedeva da anni. La politica è tornata alle università, questo sarà un bene o un male. Ne parliamo dopo il servizio. Si chiama Accordo di Cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica Italia-Israele. Oggigiorno noto come bando Omaeci, dalla sigla del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che lo ha pubblicato con scadenza 10 aprile 2024, ma che si è trasformato in un vero e proprio terreno di scontro all'interno di diversi Atenei italiani e non solo. Nel bando, la dotazione totale pari a 1.100.000 euro per un periodo di tre anni. Saranno non più di 11 i progetti vincitori, ognuno dei quali sarà sovvenzionato al massimo con 200.000 euro equamente divisi fra Roma e Tel Aviv. Al centro, tre aree di ricerca tematica. La prima riguarda le tecnologie per suoli salubri, con esempi riferiti a microbioma del suolo o nuovi fertilizzanti. La seconda area di ricerca riguarda le tecnologie idriche, come il trattamento dell'acqua potabile e la sua desalinizzazione. Infine, il terzo ambito tocca ottiche, elettroniche e tecnologie quantistiche di precisione per applicazioni di frontiera, come i rivelatori di onde gravitazionali di nuova generazione. Tre aree di ricerca, quindi. Tre aree di polemiche. Secondo molte voci del mondo universitario, infatti, il finanziamento erogato per questi progetti potrebbe essere utilizzato per sviluppare tecnologie dual use, ovvero a impiego sia civile sia militare e che la terza linea di finanziamento delle tecnologie ottiche potrebbe essere utilizzata per sviluppare devices di sorveglianza di ultima generazione anche a uso bellico. Voci che si sono raccolte in un appello indirizzato al ministro degli esteri Antonio Tajani e ai viceministri Giorgio Silli e Edmondo Cirielli. Oltre 2.500 voci in una lettera aperta sottoscritta da docenti, studiosi e ricercatori universitari per chiedere la sospensione di questo bando. Un modo, scrivono i firmatari, per esercitare pressione sullo Stato di Israele affinché si impegni al rispetto del diritto internazionale tutto, come è giustamente richiesto a tutti gli stati del mondo. Leonardo Bison, allora dicevamo, la politica torna prepotente dentro le aule universitarie. Questo, secondo te, è un bene o un male? C'è da dire che ci sono dei collettivi che da sempre sono portatori di battaglie. Però almeno la mia impressione è che una mobilitazione del genere non si vedeva davvero da tanto tempo. Sì, non si vedeva da un po'. Diciamo che arriva comunque dopo anni in cui già si vedevano delle evidenti reazioni. Pensiamo per esempio all'anno scorso quando i movimenti per l'ambiente e per affrontare l'emergenza climatica già avevano portato a delle occupazioni anche abbastanza importanti, per esempio alla sapienza. Diciamo che quello che si sta vedendo con forza in queste settimane, come dicono bene gli studenti in mobilitazione, è che si sta discutendo dopo un po' troppo tempo il ruolo dell'università nella società. Cioè l'università deve fare tutto quello che per esempio i finanziatori o i finanziamenti a disposizione le chiedono di fare oppure questo va discusso, questo va valutato di volta in volta. La reazione della politica italiana dimostra che c'era una certa disabitudine a questo tipo di azione all'interno dell'università che in realtà fanno parte della storia dell'università italiana e europea e non solo. Se sia un bene o un male non sta a noi dirlo, sta probabilmente agli studenti decidere come agire e utilizzare gli spazi universitari e gli studenti naturalmente a tutta la comunità accademica nella sua autonomia. Professor Quintini, lei che cosa ne pensa di questo ragionamento che facevamo con Leonardo Bison? Io credo che sia un segnale positivo che i nostri studenti si mobilitino e abbiano qualcosa da dire sulla situazione attuale a Gaza che da ormai sei mesi è sottoposta a un attacco militare senza precedenti nei confronti di una popolazione civile per lo più inerme e con la finalità di annientare Hamas. Ora purtroppo questa è la logica che ha guidato le azioni politico-militari degli ultimi trent'anni degli Stati Uniti d'America, in particolare in Afghanistan prima, in Iraq poi, dove per combattere dei gruppi terroristici si attaccano intere popolazioni civili facendo danni che non sono semplici danni collaterali, ma danni enormi all'interno delle società in quei paesi che sono attualmente, lo vediamo con l'Afghanistan, in condizioni assolute, senza aver ottenuto poi lo scopo, questo è il problema, senza aver ottenuto lo scopo dichiarato di quelle azioni militari, per cui sappiamo che adesso in Afghanistan sono tornati dalle bani contro i quali si era dichiarata guerra. Ora, questa logica porta inevitabilmente ad un inaspirsi dei conflitti. Io credo quindi che sia un bene che gli studenti abbiano preso coscienza con buon senso e ragionevolezza delle implicazioni del lavoro intellettuale nelle vicende che ci concernono tutti, anche queste che riguardano il vicino Oriente, il Medio Oriente. Quindi per me è una buonissima cosa. Perché vergognarsi? Non vedo quale vergogna dovremmo essere portatori. Davino Balzano. Io francamente mi domando, se gli studenti non scendessero in piazza in circostanze come questa, quando dovrebbero farlo? Io credo sia davvero quasi fisiologico, normale, che gli studenti, peraltro nella nostra tradizione la comunità studentesca ha sempre avuto un ruolo politico importante. Ed è giusto che lo rivendichi ed è giusto che lo eserciti. Se anche dinanzi a situazioni di questo tipo noi ci aspettiamo una comunità studentesca silente e davvero dovremmo rinunciare all'università come l'abbiamo sempre intesa. Quello che sta succedendo a Gaza è di una gravità senza precedenti. Rimanda a episodi della storia che dovrebbero essere ormai retaggio del passato. Alcuni criticano l'espressione genocidio, ma se non l'adoperiamo dinanzi a decimazioni, dinanzi a carestie provocate, dinanzi ad una situazione nella quale non ci sono più ospedali, hanno raso al suolo gli ospedali, la gente muore di fame e di sete. Peraltro con l'assoluta consapevolezza, perché è un'ipocrisia totale che Hamas non si può sconfiggere in questo modo e anzi si sta restituendo ad Israele un lungo periodo di assoluta insicurezza. Se nemmeno dinanzi a questo uno non si rende conto che anzi dovremmo essere grati alla comunità studentesca, io mi vergogno personalmente di tutti coloro i quali non pongono dei dubbi dinanzi ad una gestione così violenta di quello che sta accadendo in quel territorio. Ecco, io l'unica esortazione che vorrei muovere è quella di una critica totale alla guerra e alle guerre. In questo ambito è certamente importante, io la sottoscrivo, ma che sia totale, perché noi in Europa la strategia bellicista che stiamo perseguendo rischia di farci veramente precipitare un conflitto totale, quindi io chiedo agli studenti di allargare ancora di più i loro orizzonti e di sostenere questa iniziativa davvero a 360 gradi. Savino, poi il Viminale ti viene a cercare. Allora, vedevo Curcio e Pandolfi a nuire quando Savino diceva se gli studenti non scendono in piazza in queste situazioni, quando devono farlo. Allora, chiedo a voi qual è oggi il ruolo delle università nella società? Beh, come dire, i nostri atenei si stanno piegando sempre di più innanzitutto al profitto privato e a tutti quelli che sono poi gli interessi strategici delle imprese del nostro Paese e non solo. Da questo punto di vista si stanno legando anche sempre di più al comparto militare industriale, perdendo di vista invece quello che dovrebbe essere il loro vero obiettivo, cioè l'emancipazione degli studenti che vogliono studiare, che vogliono avere una vita migliore tramite lo studio. Le nostre università stanno perdendo la loro funzione emancipatoria e invece si stanno piegando sempre di più, da un lato al profitto privato, dall'altro lato appunto alla guerra e agli enormi interessi che questo comporta. Come dire, le nostre università si legano al comparto militare industriale a 360 gradi, dagli accordi con la Nato che pullulano nelle nostre università, fino agli accordi con per esempio Leonardo S.P.A., la più grande azienda militare europea, degli accordi che appunto rendono tutti noi in qualche modo complici di le guerre in corso e di un genocidio. Io vorrei rispondere un po' anche al dibattito che vi era prima, dicendo che è vero, nelle nostre università sta in qualche modo nascendo una nuova generazione generazione, una nuova generazione che sente di essere sempre più privata del proprio futuro e proprio per questo si mobilita, si mobilita perché non ci sta ad essere coinvolta nelle guerre in cui sempre di più il nostro paese ci trascina, dall'invio di armi in Ucraina fino all'invio di una flotta militare a largo dello Yemen, fino al continuo sostegno a Israele. Noi a eventi di guerra, al ruolo che il nostro paese, l'Unione Europea, la Nato hanno in questi eventi di guerra, non ci vogliamo proprio stare ed è proprio a partire dalle nostre università che noi vogliamo costruire l'opposizione alla guerra a tutto campo. È un obiettivo condiviso dall'Unione Sindacale di base, giusto Curcio? Mi dicevate prima, ci dicevate che l'incontro di questi minuti è verso il 25 aprile contro tutte le guerre. Esatto, sì. Noi in Università di Bologna abbiamo fatto un appello agli organi di governo dell'Ateneo per il cessato il fuoco in tutti i conflitti in corso, non solo a Gaza. È stato un appello, tra l'altro sottoscritto all'unanimità dei presenti all'interno di un'assemblea plenaria della RSU, della rappresentante sindacale unitaria dell'Ateneo, su una proposta del nostro sindacato, USB, pubblico impiego, settore università. E quindi noi ci siamo, infatti non ci fermeremo oggi che è la scadenza del Bando Maeci. Noi continuiamo e continuiamo anche su tutti gli accordi, non solo con i partner israeliani. Dirò di più, la nostra attività, io sono anche nel, come USB Università, abbiamo aderito all'Osservatorio contro la Militarizzazione delle Scuole e delle Università. Ed è da un anno che lavoriamo su questo. L'Osservatorio è stato costituito proprio un anno fa, a marzo del 2023, a settembre si è esteso anche all'università perché era partito solo con le scuole e noi stiamo denunciando questo processo di militarizzazione della scuola e delle università e continueremo su tutta quella che è la filiera bellica. Ma non solo quella bellica, ma anche quella parabellica e anche in ambito strategico e militare, perché diciamo no anche alla Nato, non solo a chi produce armi, ma anche a chi utilizza diciamo le relazioni con le università per coltivare la guerra, per istruire che l'università sia una, come dire, una fucina di idee, di condivisione di saperi, di dialogo fra i popoli, di internazionalizzazione dei saperi e non la parte destruent della società. Leonardo Bison, ci sono stati anche... E quindi chiediamo anche che ci siano più risorse per la ricerca, per rendere l'università libera di scegliere su cosa fare ricerca, altrimenti sarà sempre ricattata da chi ha risorse che sono in questo momento chi fa gli extraprofitti con le guerre, come Leonardo. Leonardo Bison, ci sono stati anche degli scontri in occasione di queste manifestazioni degli studenti che infatti arrivano a denunciare di non avere possibilità di manifestare il proprio dissenso e poi infatti si è aperta una discussione su questo. Tu da che parte stai, se vogliamo dirla, metterla così? Diciamo che quando avvengono violenze o comunque risposte eccessivamente violente da parte di chi dovrebbe mantenere l'ordine, è abbastanza difficile stare dalla parte di chi offre queste risposte. No, è evidente che almeno fino a pochissimi giorni fa, insomma, fino in particolare agli eventi di Pisa che hanno creato un risultato pubblico piuttosto forte, c'è stata una gestione dell'ordine pubblico sul tema, non solo in Italia peraltro, sul tema di Gaza e della guerra d'Israele decisamente esacerbata che ha portato a reazioni completamente fuori luogo, in alcuni casi rispondendo a proteste pacifiche. Si è visto anche ieri che è stato un po' il picco delle proteste, che evidentemente qualcosa devono aver capito al Ministero dell'Interno, nel senso che ieri non ce ne sono state di queste disposte, ci sono state in realtà la sera prima a Napoli, però per esempio ieri a Padova è successo che si discuteva nel senato accademico della mozione proposta dagli studenti e il senato accademico era circondato da forze dell'ordine. Quindi, diciamo, se si pensa come ha tra l'altro commentato ieri in diretta la Ministra dell'Università Bernini, che semplicemente l'utilizzo di proteste magari anche scenografiche, magari anche scenografiche, ma comunque pacifiche contro determinate politiche sia di default inaccettabile e quindi in qualche modo sia legittimo la proposta violenta da parte delle forze dell'ordine, non stiamo andando in una direzione di gestione dell'ordine pubblico proprio di un Paese democratico. Eh no, questo infatti è un altro tema che si apre, che andrebbe approfondito, lo faremo magari in un'altra puntata. Io ringrazio tutti voi per essere stati qui con noi, Giuseppe Curcio dell'Unione Sindacale di base, Luigi Pandolfi di Cambiare Rotta, grazie. Grazie a Leonardo Bisson, collaboratore del Fatto Quotidiano. Grazie Leonardo, a presto. Grazie al professor Paolo Quintili dell'Università Torvergata. Torneremo a disturbare anche lei, professore. Grazie, del invito. Savino, se vuoi hai veramente pochissimi secondi per le ultime battute. Qualsiasi risposta violenta da parte delle forze dell'ordine, a meno che non si tratti di una situazione di palese rischio di sicurezza pubblica e di ordine pubblico è sempre eccessiva. Questo lo dobbiamo puntualizzare. Credo che la libertà di pensiero e di espressione di manifestazione siano sacre perché sancite dalla Costituzione, vanno protette. Savino Balzano, noi ci vediamo domani. Grazie a Ivano Di Gianvito che ha curato la regia questa sera, ma soprattutto grazie a tutti voi per averci onorato della vostra attenzione. Grazie a tutti.